Amici di Red, la voce del meridione, buongiorno. Ben ritrovati dopo alcuni mesi di questa lunga estate in cui non ci siamo sentiti, non ci siamo visti. Buon 11 settembre, giornata in fausta, oramai sono 22 anni delle torri gemelle, l'11 settembre del 2002, le due torri furono assalite, come vi ricorderete tutti, per cui è una giornata che ricorderemo bene tutti quanti. E' impressa nelle nostre memorie. E allora a proposito dei torri, oggi vi voglio parlare di una storia curiosa. Qui siamo al confine fra l'Umbria e la Toscana, e proprio in questo confine, per l'egemonia del territorio, tanti anni fa, sono state create due torri. Due torri per dimostrare che un popolo, quello etrusco-umbro, fosse superiore al popolo toscano. Ai toscani, della signoria della Toscana, che facevano insomma del loro territorio, della loro forza, un punto importante. Ma curiosità è il nome di queste due torri, che non sono come quelle torri gemelle, ma sono due torri, diciamo così, piccole, ognuno con la sua forma. Una maestosa, diciamo, maestosa, che sorge su una collina, che domina, diciamo, la vallata del lago di Chiusi. E una, più piccola, con uno stile più gentile, più armonioso, che è dei toscani. Insomma, si chiama una, beccati questa, e l'altra, per contrapposizione, beccati quest'altra. E allora, venite con me, vi porto a vedere queste due torri e la loro storia. Ecco la prima torre, beccati questa. Lo vedete, lo stile è tipicamente fiorentino, quindi, come vi dicevo, la torre dei Toscani. Dovete pensare che negli anni 80-90, queste due torri, che adesso sono un pochino dimenticate, sono andate nell'oblio, erano fatte meta di visita di tanti visitatori di tutta Italia e oltre, che venivano, naturalmente, nella vicina Chiusi a vedere il museo degli Etruschi, del re Porsenna, e un'escursione era tipica alle due torri, beccati questa e beccati quest'altra. Ecco questa, beccati questa, i Toscani la fecero proprio al confine fra le due regioni, per fare vedere la loro potenza, sia economica che fisica. Lo stile è tipicamente come la piazza Signoria di Firenze, e proprio al confine della Val di Chiana, a pochi metri, dove mi trovo io, sono in Umbria, la torre proprio nel territorio della Toscana. Adesso, vi dicevo, queste due torri sono un pochino abbandonate, lasciate un po' a se stesse, lo potete vedere anche dall'incuria, un pochino del terreno intorno, crescono, cresce erbaccia, non vengono più curate, addirittura l'altra torre, beccati quest'altra, è stata acquistata da un privato, e quindi non è nemmeno più accessibile. Mentre invece questa, dei Toscani, possiamo arrivare fin sotto la sua grandezza, la possiamo ammirare, si mantiene in uno stato ancora buono, nonostante appunto l'incuria del tempo e il fatto che l'uomo l'abbia un pochino abbandonata. Dall'altro lato, proprio al confine, ecco l'altra torre più maestosa, beccati quest'altra, vi dicevo non è possibile andarvi ad accedere, però potete notarla come la torre si erge su un piccolo promontorio, perché gli Umbri allora fecero vedere, noi ci considerate dei contadini, considerate delle gente povera, vi facciamo vedere che facciamo la torre più grande, più maestosa della vostra, a dispetto. Quindi sono storie veramente curiose, simpatiche, dove molte volte l'antagonismo tra due popoli, la terra di confine, oppure il campanile, può creare queste cose. Le due torri comunque continuano ad essere, a vivere nel loro stato un pochino di abbandono, come vi dicevo poc'anzi, però venite a vedere, perché veramente la storia è molto curiosa. Non si conosce l'età appunto, vi dicevo, della loro nascita, sono molteplici, diciamo così, le testimonianze. Però ecco, allora esisteva il Gran Ducato di Toscana e lo Stato Pontificio, quindi si dovrebbe risalire intorno al 1400-1500. Peccato che, ripeto, essendo un meta di turisti, siano state un pochino lasciate nell'oblio, però è una storia davvero simpatica che vi ho voluto raccontare. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato. Grazie a tutti.